ciao a tutti bentornati o benvenuti sul mio canale video di oggi indovinate l'all di oggi raga è tutto quasi tutto anzi but and body sapete quanto io impazzisca per but and body works sapete quanto io impazzisca per alle limite di halloween unite le due cose uguale danni ho preso anche un paio di cosette da nix direi di partire da quelle perché sono veramente tre cose di numero così ce le togliamo e poi possiamo passare a but and body l'avrete sicuramente già visto e rivisto da praticamente tutti e ho voluto provare a prendere anch'io questo eyeliner tra virgolette che però è una colla per le ciglia subito non l'abbiate ancora visto in azione ma nel caso recuperate il video di scorsa settimana quello di questo make up perché appunto lo andiamo a provare insieme quindi diciamo che ve ne parlo un po meglio in quel video non so se vi ricordate ma da nix tantissimi anni fa veramente tanti 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 anni fa erano uscite cioè in realtà credo che ci siano ancora cioè penso non siano assolutamente così hyped come un tempo però in teoria dovrebbero esserci ancora i rossetti liquidi tutti colorati c'erano sia di colore più nude sia di colore super pazzi io ne avevo veramente veramente tanti l'unico problemino è che avevano una texture un po strana ecco e anche l'odore era abbastanza chimico ricordava molto tipo le maschere di halloween di carnevale erano un po c'era anche la linea dei nude che poi hanno riformulato in lingerie xxl che personalmente amo e per appunto questo periodo hanno voluto introdurre due nuove colorazioni viola e nero sono bellissime raga io non vedevo l'ora di provarle perché amo come vi stavo dicendo poco fa la formulazione delle lingerie xxl classiche e quindi diciamo che speravo che queste avessero un po lo stesso profumo di quelle la stessa texture ho provato ieri questa viola e vi posso assicurare che sono quelle quindi sono super contenta non vi so assolutamente dire se si tratta di una limite dove ho provato a scrivere alla pagina di nix ma nessuno ha mai risposto passiamo ora a batten body in realtà da batten body ho fatto ben due ordini perché hanno fatto due promo totalmente distinte in due periodi ovviamente diversi quindi figuriamoci solo che come avrete capito un po dall'anticipazione che vi stavo dando prima sono tutte limited e non volevo assolutamente rischiare di farmele sfuggire direi di partire da questa raga che la stavo desiderando veramente da tantissimo la volevo già prendere dall'anno scorso solo che ero andata in negozio troppo tardi a quanto pare ed era già tutto 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 esaurito anche online non c'era più niente tra l'altro questa se non sbaglio dovrebbe già essere addirittura esaurita ad ora insomma sul sito quindi magari potreste ancora trovarla in alcuni shop altrimenti prossimo anno solitamente sono profumazioni che ogni anno le ripropongono cambiando il pack quest'anno è veramente bello cioè devo dire che nella sfortuna di non averla trovata l'anno scorso quest'anno c'è un pack molto più bello quindi direi che questa cosa mi rincora abbastanza allora sapete che io non sono brava per niente a descrivere le profumazioni ma stavolta mi sono superata stavolta c'è proprio ce l'ho fatta ce l'ho fatta allora questa è la profumazione magari vi dico anche il nome perché così giusto per info marshmallow pumpkin latte ragazza di marshmallow un po speziati la zucca non si sente non so se avete presente il profumo pink sugar quello super iconico bianco e rosa a spirale se avete presente quello questa è uguale è quella identica spiaccicata la stessa ha voluto provare anche champagne apple honey di questo non sapevo assolutamente della sua esistenza è stata proprio una scoperta di quest'anno e questo devo dire che rispecchia pienamente il suo nome ovvero fruttato dolce ma con quella nota un pochino frizzantina fresca buonissima veramente mi ha super stupita anche questa ho preso in realtà anche la crema mani di marshmallow pumpkin latte ma indovinate chi se l'ha dimenticata nelle cose tra le scorte perché se alcune cose le avevo già messe via semplicemente magari perché ne sto finendo altre comunque vi lascio qui una foto del prodotto e ha esattamente la stessa identica profumazione di questo candela di halloween pumpkin curving questa è sta di pumpkin spice latte raga è buonissima è super dolce cioè proprio mi ricorda il psl anche questa l'avevo vista l'anno scorso non l'avevo presa perché avevo preso gold friends che tra l'altro ho ancora e amo tantissimo e quella vi devo dire la verità devo accenderla a due stoppini alla volta sono le candele appunto queste qui a tre stoppini ma tra non ce la faccio cioè tre mi fa venire il mal di testa e io amo le candele molto profumate quella è veramente troppo troppo non ce la faccio questa invece nonostante sia sempre una candela molto profumata è un po' più delicata e riesco ad utilizzarla con tre stoppini passiamo al secondo ordine ovvero quello dei saponi le ho presi tutti in questa versione che fanno la foam ci sono anche quelli in sapone liquido normale però questi sono molto più belli le profumazioni sono uguali ovviamente questa si chiama pumpkin perfect ma dovrebbe essere appunto la sua quindi di pumpkin curving la profumazione è molto 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 simile ed è super bellissima l'etichetta con disegno il tema halloween tutti olografici naturalmente il sapone di gold friends come vi stavo dicendo è una profumazione che mi fa impazzire e anche questa è super witchy cioè questa è proprio il mio mood no ho voluto provare a prendere questo prodottino perché l'ho trovato in sconto e ne avevo sempre sentito parlare molto bene è un deodorante per ambienti questo è nella profumazione sweet cinnamon pumpkin avevo il sapone in foam di questa profumazione pretesa quindi comunque già lo conoscevo è molto simile in realtà a pumpkin perfect è super piccolo ma raga veramente basta uno spruzzo due massimo nella stanza basta questo raga non era in sconto ma capitemi bene che se io trovo una cosa del genere cioè ci capiamo ci capiamo ecco è un portasapone è fatto ovviamente apposta per questi in foam ed è bellissimo perché questi appunto essendo trasparentini si vede tutto questo colore bellissimo mi piace un sacco io in questo momento sto utilizzando pumpkin perfect eccolo qua guardate quanto ci sta bene e anche in bagno è proprio bello da vedere l'ultima cosina l'ho lasciata per ultima sostanzialmente perché con Halloween non c'entra assolutamente niente appunto perché si tratta di Natale sì raga ho già iniziato a prendere cose anche di Natale perché sono arrivate anche quelle profumazioni e vaniglia Bill Noel è una delle mie preferite quindi visto che stavo facendo l'ordine con i saponi in offerta mi sembrava cosa buona e giusta prendere anche questo di Natale perché come al solito ce le proviamo? no! questa profumazione raga ve l'ho già descritta in vari video comunque è una vaniglia molto dolce è tipo una vaniglia in versione caramelline e nulla raga questo era l'all di oggi un po' più breve del solito però appunto era più incentrato su butt and body fatemi sapere voi che cosa avete preso da questa collezione se avete preso qualcosa io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù in infobox perché li troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video ciao 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 ciao